La battaglia di Zama La battaglia di Zama fu l'ultima battaglia della Seconda Guerra Punica, combattuta il 19 ottobre 202 anno corrente tra le forze romane guidate da Publio Cornelio Scipione, africano e le forze cartaginesi guidate da Annibale Barca. La battaglia ebbe luogo nei pressi della città di Zama, in Umidia, e si concluse con una schiacciante vittoria romana. La Seconda Guerra Punica era iniziata nel 218 anno corrente, quando Annibale aveva attraversato le Alpi con un esercito di elefanti e aveva sconfitto i romani in una serie di battaglie, tra cui la battaglia del Trasimeno e la battaglia di Cannae. Scipione africano, che era stato nominato comandante romano in Spagna, aveva sconfitto i cartaginesi in una serie di battaglie, tra cui la battaglia di Ilipa, e aveva costretto Annibale a lasciare la Spagna. Nel 204 anno corrente, Scipione aveva sbarcato in Africa e aveva iniziato a conquistare il territorio cartaginese. Annibale, che era stato richiamato da Roma, aveva cercato di fermare l'avanzata romana, ma era stato sconfitto in una serie di battaglie, tra cui la battaglia di Bagradas. La battaglia di Zama fu l'ultimo scontro tra i due grandi generali. Scipione aveva imparato molto dalle vittorie di Annibale, e aveva sviluppato una strategia che sfruttava i punti deboli dell'esercito cartaginese. Annibale, invece, era ormai privo di risorse e di uomini, e non poteva più contare sull'effetto sorpresa che aveva caratterizzato le sue precedenti vittorie. La battaglia iniziò con un attacco cartaginese al centro dello schieramento romano. Scipione, però, aveva previsto questa mossa, e aveva schierato la sua cavalleria in riserva. La cavalleria romana, guidata da Gaio Lelio, attaccò alle spalle le forze cartaginesi, scompigliandole e causando molte perdite. In seguito, Scipione attaccò il fianco destro cartaginese con la sua fanteria. La fanteria romana, guidata da Lucio Marcio Marcello, sconfisse facilmente i cartaginesi, che furono costretti a ritirarsi dal campo di battaglia. La battaglia di Zama fu una vittoria decisiva per Roma. Annibale fu costretto a fuggire in esilio, e Cartagine fu costretta a firmare un trattato di pace che la ridusse a una potenza secondaria. La battaglia di Zama ebbe un'importanza fondamentale nella storia del Mediterraneo. Essa segnò la fine della Seconda Guerra Punica, e la definitiva affermazione di Roma come potenza dominante nella regione. La battaglia fu anche un'importante vittoria per Scipione africano, che fu acclamato come un eroe a Roma. Conseguenze della battaglia La vittoria romana a Zama ebbe conseguenze di vasta portata. Innanzitutto, pose fine alla Seconda Guerra Punica, che era stata una delle guerre più lunghe e costose della storia romana. In secondo luogo, significò la definitiva sconfitta di Cartagine, che fu costretta a cedere a Roma la maggior parte dei suoi territori e a pagare un ingente tributo. In terzo luogo, consolidò la posizione di Roma come potenza dominante nel Mediterraneo, e contribuì alla nascita dell'impero romano. La battaglia di Zama nella cultura popolare La battaglia di Zama è stata rappresentata in numerose opere di letteratura, arte e cinema. Tra le opere più famose si possono ricordare L'Africano, romanzo di Ernest Hemingway del 1935, che racconta la vita di scipione africano. La battaglia di Zama, dipinto di Jack Lewis David del 1806, che rappresenta la battaglia in modo epico e grandioso. La battaglia di Zama, film del 1962 diretto da Vincent Sherman, che racconta la battaglia in modo romanzato. La battaglia di Zama è una delle battaglie più importanti della storia, e il suo ricordo è ancora vivo nella cultura popolare di tutto il mondo.